Please don't stop the music Wow wow wow, grandi amici del tubo! Ben ritrovati qui sul canale di Switching Music Oggi siamo qui con un altro gameplay di Call of Duty Advanced Warfare Ho appena fatto il secondo prestigio Quindi ho pensato di portarvi un'altra modalità, un'altra idea Praticamente questa è molto più semplice, un po' più buttata su Intanto che non torno ad avere tutte le armi Ed è quella di cambiare arma ogni uccisione Adesso ho fatto una classe con due armi primarie principali E cambierò uccisione e arma dopo ogni uccisione Vi lascio al video, buona visione, bella! Eccoci qui allora alla partita nella mappa Defender Questa mappa mi piace Mi gusta mucho Quindi potrebbe venire fuori anche una bella partita Andiamo le cuffie Siamo pronti, tutto collegato Dai adesso tocca il gioco se magari parte Grazie Vedete, ho fatto questa classe senza accessori Così è anche più difficile Partiamo Dove siete? Oh, ce n'è uno qui sopra Ok Fatto, via Chi è il prossimo? Chi è il prossimo? Ok Headshot beats Merda Va bene, dai due Ho visto Stronzo Cambia arma Ok, cambia arma Camper Leccamelo Coglione Guarda come gioca la gente Incredibile Incredibile Vabbè Oh Lag 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 Merda Non ci credo Non ci credo Ma guarda Ma cazzo Ma cazzo gioca la gente Madonna Ok Sei gatto Cambia arma Giù di qua Da dietro Da dietro Dai Dove siete? Dove siete? Oh 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 Ciao vecchio Dai stai pure lì Muori Bene Uh Camperino Piccolino Muori Lì non c'è nessuno Nascosto Lì Neanche Oh 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 Ciao vecchio Hai scivolato un po' troppo in avanti Cambia arma Perfetto Dove cazzo? Ma da sotto Coglioni Dai Pezzi de proci Mori Ce n'è uno Là Andiamo a pigliarlo Uh uh Dov'è il prossimo? Che vuole morire Eccolo là Ti ho visto No Sono caduto Dai Vai su No Se me lo sgamano Mi incazzo Ecco Dove cazzo È andato Dove cazzo è andato Merda Vabbè Uno l'ho ucciso Dai 12 e 8 Signori Mamma mori Goione Dai col ball Dai col ball Ball E to- Oh cazzo Mi son cagato Adosso Oh non l'avevo Non l'avevo visto Ok Cambia Via 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 Drop shot baby No No Ero senza colpi Qui cazzo stavo per fare l'action della vita Oh Che minchiera quella roba Guardalo Ciao bello E ciao bello Perfetto Ricarica 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 Prima di girare l'angolo Che cazzo arriva da qua Nessuno Oh Merda Dovevo tirargli un pugno Dovevo tirargli un pugno Oh Cazzo What the fuck Cazzo di lag c'è ragazzi E stiamo vincendo comunque Mori Ricarica Dai Dai Bravo ciccio Via di qua sotto Che non ci vedono Nessuno qui Ok via Segato Dove sei? Ok UAV Chiamiamolo subito Subitamente Uh cazzo Mi sembrava di aver visto qualcuno Invece erano delle scintille a caso Lì c'è un po' di Gente Ricarica Siamo ancora vivi Non ci credo Andiamo nella mischia ragazzi Dove è Ecco ti Ciao bello Assettatevi sangue Mamma origoione Cambio Qui c'è qualcuno Merda il dropshot Non è venuto ragazzi E vabbè 23 23 19 Dai Non perdiamola sul finale Per piacere Da là non viene Camperino Bastardo Muori Ok Oh Perché salto a caso Va bene Ok Non è Merano ciulato Non ci credo Bastardi Eh che cazzo Con l'Akimbo Questo Akimbo A me Mi piace Ho le cuffie Per sentire meglio Invece Invece di Sentire meglio Sento peggio Perfetto Muori Ok 27 Ancora 3 Signori Ancora 3 Guardalo lì 2 Andiamo di qua Che adesso arriverà qualcuno Sicuramente Tipo questo Qui Oddio Oddio Stavo per fare la doppia E vice Signori Chiude così Andiamo A 30 Switching Music Tanta roba Vediamo Ratio Com'è andato Ultima uccisione Intanto Killcam Ben 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 Su chiare 30 16 Molto 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 bene Molto bene Quindi Anche per questo episodio Anzi Per questo video È tutto Vi invito a lasciare un mi piace Se questo video vi è piaciuto Ditemi nei commenti Magari qualche sfida da fare Perché io ho qualche idea Ma questa Per dire è un'idea già fatta e rifatta Era solo così Visto che avevo appena fatto il prestigio Lasciate quindi un commento Per dirmi cosa ve ne pare Iscrivetevi al canale Per vedere altri video del genere O alla Mia carriera di E-video 2K15 Che vi lascio Qui Vi lascio l'episodio Se volete andarlo a vedere Per questo video è tutto Bella